Pensavate di fare brutta figura con Berlusconi? Allora non sapete cosa succede adesso in America Ma ragazzi, prima volevo ringraziare lo sponsor di questo video La rivista Speak Up Una rivista in inglese fatto per italiani Parliamone un po' più a lungo alla fine di questo video Ma ragazzi, sì, come dicevo Sta succedendo un casino in America adesso Lo sapete perché? Perché una cosa che si chiama impeachment sta per accadere E' una cosa che è successo solo due o tre volte Nella storia lunghissima dell'America Impeachment è quando rimuovono il presidente americano Perché ha fatto una cosa chiaramente gravissima Quindi cosa ha fatto il nostro preferito Donald Trump? Beh, ha praticamente chiamato il presidente di Ucraina E ha detto aiutatemi a vincere le elezioni dell'anno prossimo Altrimenti ritiro l'esercito americano che c'è sta nel vostro paese Sì ragazzi, veramente ha minacciato questo per aiutare se stesso Ha tradito l'America facendolo E si è creato un alleato con Ucraina tra tutto questo La parte divertente di tutto ciò è che adesso ci sono le pubblicità per le elezioni dell'anno prossimo Per i candidati E si prendono proprio in giro Ad esempio, guardate questo Questa E adesso c'è anche la pubblicità di Donald Trump in cui si defende Joe Biden promised Ukraine a billion dollars if they fired the prosecutor investigating his son's company If the prosecutor's not fired, you're not getting the money Oh son of a bitch Got fired But when President Trump asks Ukraine to investigate corruption The Democrats want to impeach him And their media lapdogs fall in line They lost the election Now they want to steal this one Don't let them I'm Donald Trump and I approve this message Quindi come potete vedere è proprio una bella situazione in America adesso Infatti quando i miei sono venuti in Italia adesso mi hanno tutti e due detto Che sono solo contenti di scappare per un po' dall'America perché non vogliono più sentire queste notizie sempre nel telegiornale Quindi per farmi capire un po' di più c'è un candidato democratico che si chiama Joe Biden E lui sta vincendo adesso Visto che lui sta vincendo sarebbe l'avversario principale di Donald Trump nelle elezioni l'anno prossimo Quindi Donald Trump ha tirato la carta di chiamare Ucraina Perché così Ucraina dice una cosa su Joe Biden Fa scoppiare questa cosa, questa brutta cosa di Joe Biden Così la sua campagna crolla e Donald Trump vince Quindi adesso nelle prossime due settimane capiremo se Donald Trump verrà veramente impeached O se questa cosa passerà Adesso non lo sappiamo Però ragazzi io essendo americano in Italia seguo sempre questa storia E sono molto curioso di scoprire cosa succede Volevo condividerlo anche con voi Ho preso anche spunto da proprio questa rivista Guardate che c'è scritto Impeachment Speak Up È una rivista come dicevo fatto quasi tutto in inglese per gli italiani Ad esempio guardiamo la pagina dell'impeachment Ecco, introducono l'argomento in italiano e poi scrivono il resto in inglese E quando ci sono le parole difficili ad esempio Misconduct, treason, misdemeanors Tutte le parole che forse non si capirebbero C'è questa parte qui In cui c'è la traduzione pronta e visuale così E se quello non bastava già C'è pure questo libretto che si chiama Work It Out È un libretto pieno di esercizi per allenarsi con l'inglese Non vi preoccupate, è diviso proprio in livelli Quindi anche se sei A1 o C2 Ci sono molti esercizi pure per te E l'ultima cosa da sapere è che quando leggi questa rivista Forse vuoi anche ascoltare in lingua originale quello che stai leggendo Per questo c'è sempre anche la CD Quindi puoi ascoltare la voce madrelingua di qualcuno che legge quello che c'è scritto Leggi e ascolti migliori anche il listening e la pronuncia quando pratichi Quindi quando ti iscrivi a Speak Up avrai tutte e tre cose mensilmente ad un prezzo molto basso Quindi ragazzi andate ad iscrivervi a questo link nella descrizione Grazie a Speak Up per aver sponsorizzato questo video E ragazzi spero vi sia piaciuto come sempre Ci vediamo alla prossima Peace Ciao